Il FIFA Ballon d'Or 2015 va a Lionel Messi. Ancora una volta Lionel Messi, la quinta negli ultimi sette anni. Mai nessuno come la pulce argentina che vince, anzi stravince, l'ambito premio di France Football con oltre il 41% dei voti. È stato un vero e proprio plebiscito frutto dei successi del Barcellona 2014-2015. E anche grazie ai miei compagni di squadra che sono qui oggi, ha detto Messi. Ho potuto ottenere questo riconoscimento grazie a quanto abbiamo vinto la scorsa stagione. Champions League, Liga e Coppa del Re. Il triplete dei catalani trascina sul podio anche Neymar, terzo, dietro a Cristiano Ronaldo. Poca è invece l'Italia presente nella serata di gala a Zurigo. La Juventus, fermata lo scorso anno a Berlino solo dal Barcellona delle Stelle, porta il centrocampista Pogba nella top 11 europea. Ma Allegri esce dal podio dei migliori allenatori. Al romanista Florenzi va il bronzo nella classifica del gol più bello, realizzato, guarda caso, proprio contro i catalani. A far discutere sono però i voti, non arrivati, del commissario tecnico Antonio Conte e di Gigi Buffon. La loro astensione è stata dettata dalla Federazione Italiana, dopo la decisione di escludere il portiere e Capitano Azzurro, dalla classifica dei 59 migliori al mondo. L'accusa, se così si può dire, è di non aver considerato quanto fatto da Buffon e compagni lo scorso anno. E se si guarda i numeri, per una volta, forse, occorre dare ragionata vecchio.